Siamo ormai abituati alle produzioni indipendenti che sono ispirate in qualche modo ai grandi classici videoludici, provando talvolta a modernizzare alcune meccaniche di gameplay che altrimenti mal si sposerebbero con i titoli odierni. Il gioco di cui vi parleremo in questo video prende il nome di Broken Pieces ed appartiene proprio a questa categoria di prodotti dal momento che, per stessa ammissione del piccolo team di sviluppo francese Elsewhere Experience, si tratta di un gioco ispirato ai primi episodi di saghe immortali come Resident Evil e Silent Hill. Ne abbiamo provato la demo e siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni, non prima di avervi invitato a iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Per quanto i capolavori Capcom e Konami siano tra le principali fonti di ispirazioni, Broken Pieces non è un titolo horror a tutti gli effetti, dato che il gioco Elsewhere Experience rientra più nel genere dei thriller con elementi soprannaturali e fa della narrazione il suo principale punto di forza. L'avventura ha come protagonista Elise, una giovane donna che si trova all'interno di una sorta di incubo dal quale non riesce a sfuggire. La ragazza è infatti intrappolata a Saint-Exil, un villaggio situato sulla costa francese. La situazione in cui riversa Elise è ben diversa dal più classico loop temporale, poiché il tempo continua a scorrere e il calendario nella cucina della protagonista conferma come siano ormai trascorsi diversi giorni dall'inizio dell'incubo. La demo che abbiamo provato non ci ha permesso di scoprire molti dettagli sulla trama poiché non includeva le prime fasi del gioco, ma analizzando l'ambiente circostante abbiamo intuito che l'obiettivo di Elise sia quello di ritrovare suo marito, scomparso misteriosamente in concomitanza con lo scatenarsi di fenomeni atmosferici molto violenti in quel di Saint-Exil, nonché con la comparsa di misteriose creature che, di tanto in tanto, si manifestano per attaccare la protagonista. Passando al gameplay, Broken Pieces non è altro che un'avventura con telecamera fissa proprio come nel glorioso Resident Evil, sebbene tale componente del gioco abbia subito alcuni importanti accorgimenti rispetto ai titoli di riferimento. Troviamo infatti la possibilità di attivare la visuale in prima persona per scrutare attentamente l'ambiente circostante, e inoltre ogni stanza propone più di un punto di vista, così che il giocatore possa visualizzare ogni dettaglio da angolazioni diverse e non perdersi oggetti e loot. Esiste infatti una grezza gestione dell'inventario con un sistema di crafting automatico che, quando andremo a dormire, verrà automaticamente attivato per creare principalmente munizioni. Occorre precisare, prima di proseguire, che lo scorrere del tempo fa parte delle meccaniche principali del gioco, ma non era presente nella demo. Elise è armata, e deve reagire di tanto in tanto alle aggressioni da parte di creature umanoidi simili a ombre. In questi casi entra in gioco il combat system, semplificato al massimo, che limita le azioni dell'utente a una semplice schivata e all'aggancio del bersaglio prima di fare fuoco. Si tratta forse della componente meno riuscita, poiché le animazioni della protagonista risultano alquanto macchinose e il sistema attraverso il quale si aggancia il nemico appare fin troppo elementare, senza la possibilità di selezionare il punto del corpo da colpire. Fortunatamente i momenti in cui si spara rappresentano solo una parte microscopica rispetto all'esperienza complessiva, che consiste prevalentemente nell'esplorazione degli ambienti e nella risoluzione degli enigmi. Nel corso della demo abbiamo dovuto analizzare ogni dettaglio di alcune strutture e ricorrere alla visuale in prima persona per individuare il codice di apertura di un lucchetto o per armeggiare con i dispositivi elettronici. Alcuni puzzle ci hanno costretto anche a ricorrere all'abilità della protagonista, che può evocare tempeste e sfruttare i fulmini per aprirsi la strada. Questo specifico aspetto del gameplay resta ancora da contestualizzare, dato che non sappiamo da cosa derivino simili poteri e quali possano essere i suoi utilizzi nel resto dell'avventura. Dal punto di vista tecnico il gioco viaggia tra alti e bassi, e il team di sviluppo ha saputo creare ambienti di gioco piacevoli da vedere e ricchi di dettagli. A fare da contrappeso alla più che discreta qualità delle ambientazioni, sono il modello della protagonista e le sue animazioni, particolarmente legnose. Non si tratta di un problema tale da compromettere l'esperienza, ma avere a schermo un personaggio più particolareggiato e con movenze più fluide avrebbe avuto sicuramente un impatto positivo, sia dal punto di vista estetico che dell'immedesimazione. Abbiamo inoltre trovato più che sufficiente il comparto sonoro, merito della doppiatrice della protagonista in grado di coinvolgere il giocatore con frequenti battute e commenti. Nel titolo è anche presente un Walkman da usare sia per ascoltare documenti audio, sia per apprezzare l'ottimo lavoro svolto dal compositore nella creazione di brani originali. In definitiva Broken Pieces non gode certo della rifinitura delle produzioni AAA e propone un sistema di combattimento che, seppur limitato a poche sequenze, risulta comunque la componente del gioco meno azzeccata tra quelle che compongono l'opera. Al netto di qualche difetto, però, abbiamo apprezzato molto il modo in cui sono stati costruiti gli ambienti, i quali spingono il giocatore ad osservarne ogni angolo alla ricerca di una soluzione ai puzzle. Questo breve contatto col gioco ci ha insomma incuriosito e aspettiamo di conoscere la vostra opinione su Broken Pieces nello spazio dedicato ai commenti. Grazie per la visione!